Siamo qui stamattina per ricordare le attività che Avis in questo mese di settembre-ottobre andrà a svolgere, ma non possiamo non partire dalla tragedia di qualche settimana fa. Noi abbiamo chiamato questa conferenza stavica, le tragedie non ci devono più trovare impreparati. 500 persone in tre giorni sono state un risultato eccezionale, quindi grazie a tutti coloro che sono venuti al trasfusionale nell'immediatezza del terremoto. Sono tanti giovani che sono una speranza assoluta per la città, per noi come Avis, ma qui dobbiamo lavorare per far diventare un gesto di una grande solidarietà, un gesto ripetitivo nel tempo e negli anni. Questo è quello che farà la differenza nei prossimi mesi. Poi presenteremo l'iniziativa Un Dono in Comune. Perugia ha partecipato a un'iniziativa ANCI per quanto riguarda questa manifestazione che vedrà il culmine il 4 di ottobre. riporteremo a donare anche i politici come esempio per quello che possono essere i politici. Noi molte volte le additiamo per qualcosa di brutto, invece a Perugia riusciamo a fare. In maniera trasversale perché è aperta chiaramente a tutti e tutti partecipano. il 4 di ottobre avverrà questo, poi tutti i dipendenti lo potranno fare fino al 16 di ottobre, è un'altra cosa importante. E questa è una cosa che ci fa piacere, ci fa onore, ci dà speranza, nell'ottica che dicevo prima. Far trovare la città sempre pronta a qualunque evenienza. La legge di fatto non ha cambiato nulla al momento, ha solo reso ancora più sicuro quello che è un passaggio importante che è la donazione. Ricordo, anzi questa domanda la ringrazio perché mi permette di dire che tutti coloro che soprattutto in questo periodo dopo il terremoto non hanno potuto donare, non è che non lo hanno fatto per un motivo così, perché è una garanzia che noi diamo a loro stessi e al ricevente. Oggi in Italia abbiamo una donazione sicura al 99,99%, quindi questo è dovuto a un lavoro che sono fatto. Mi preme sottolineare, proprio dopo il terremoto, la grande disponibilità che abbiamo avuto, soprattutto dei giovani. Questo è un passaggio per noi fondamentale perché ci dà speranza come Avis e come cittadinanza in genere. Quello che è importante è che tutti noi comprendiamo che va benissimo lo slancio di generosità, ma quello che è ancora più importante è far diventare questo gesto ripetitivo. Quando faremo questo noi a quel punto avremo superato qualunque tipo di emergenza. Infatti se lei vede il titolo dell'E, nessuna tragedia ci dovrà trovare impreparati. Questo per noi è un motivo di... Poi per fare questo mettiamo in moto mille iniziative. La giornata del dono, l'iniziativa con il comune, ma fondamentalmente noi vorremmo trasferire questo concetto che per noi è importante. Diventare donatore periodico di sangue aiuta se stessi e aiuta poi la popolazione. Grazie a lei, grazie a lei.